Ospite della trasmissione The Bump, Goldberg ha apertamente sfidato Roman Reigns. Ecco cosa ha detto The Man, tradotto e adattato in italiano. State a sentire. Dire che lo voglio affrontare è poco, e i motivi sono tanti. Ad esempio, si è tirato indietro a Vrestelmenia, e poi utilizza la Spear, che è la mia mossa, e continuo a sferlarla in maniera scadente. Diciamo la verità, sono io il maestro della Spear, e credo che lui non abbia ben capito cosa è, e forse non lo capirà sino a che non ne subirà una delle mie. Dunque Roman, sto venendo a prenderti. Potrei anche essere vecchio, avrò pure i capelli grigi, ma sono sempre Goldberg. Queste parole, che ho un po' enfatizzato nella lettura, hanno subito acceso la miccia della fantasia dei fan sparsi per il globo. Resta però da vedere se effettivamente sono l'inizio di qualcosa, magari di un arco narrativo, oppure se Goldberg ha preso la tangente, se ha fatto tutto di testa sua, e se dietro non c'è niente. Voi cosa ne pensate? Tra l'altro, stando a quanto il Vrestler ha affermato in passato, il contratto che lo lega la WWE dovrebbe consistere in almeno due match all'anno a favore della federazione sino al 2023. Dunque questa battaglia, prima o poi, potrebbe davvero diventare realtà.